Ed ora special for you, Sanremo in Itza, luoghi da sogno. Sanremo è la quarta città ligure per numero di abitanti. Per tradizione vi sono tre diverse modalità di indicare gli abitanti della città. I sarremaschi sono coloro che da generazioni sono nati e vissuti a Sanremo, i sarremesi coloro che risiedono o sono nati in città ma che hanno origini forestiere, e infine i maturziani, usati più raramente spesso in senso lato, raccoglie infatti nella globalità gli abitanti della città dei fiori. È una località turistica rinomata per la coltivazione dei fiori. Inoltre, ospita il festival della canzone italiana, nostra meta da anni. E poi i rally di automobilismo ed è sede del Casinò. All'inizio del Novecento cominciarono a sorgere le strutture di intrattenimento più qualificate per l'esigente elite della Belle Epoque, il Casinò e il Campo di Golf. Con l'istituzione inoltre del Festival della Canzone Italiana, Sanremo acquistò ancora di più un ruolo dell'immaginario collettivo di cittadina frequentata da personaggi famosi e come tale vede il turismo incrementare in modo notevole. Da questo luogo incantevole ci siamo trasferiti in Costa Azzurra e qui, dopo aver visitato Nizza, eccoci nella riviera più famosa d'Europa, una lussureggiante giardino affacciato sul mare. E' la Costa Azzurra dai nobili di ieri e dai divi di oggi, delle spiagge dorate, delle rocce color fuoco, dei casino e delle eleganti promenade, dei luoghi dell'interno dove il profumo del mare si confonde con quello del timo e della lavanda. Così comincia un numero monografico dei mirigliani dedicato alla Costa Azzurra e le sue bellezze. Ma chi c'è stato sa che qualsiasi descrizione di questo tratto di costa che va da Menton a Saint-Tropez è del tutto insufficiente. E' infatti impossibile trasmettere lo spirito di questi luoghi e la vitalità da cui essi sono animati durante tutto l'arco dell'anno. La Costa Azzurra è la riviera più famosa d'Europa e nel passato indicava un tratto di costa inferiore, da Canna a Menton, dove si svilupparono le prime attività turistiche del XIX secolo. Questo tratto di costa, vero e proprio lussureggiante giardino affacciato sul mare, ha un clima dolce grazie alla sua esposizione a sud e alla protezione fornita dalle montagne provenzali e dalle Alpi. La regione è da sempre votata al turismo fino alla prima guerra mondiale. Le sue località Canna, Nizza, Menton e Monaco furono soprattutto centri di soggiorno invernale, frequentati dalla borghesia e dall'aristocrazia europea. Noi ci siamo stati, ora tocca a voi. Buon viaggio! Buon viaggio!